buon pomeriggio a tutti ragazzi in questo video parleremo delle cinquanta set no cinquanta set quarantasettesi episodio di sonic dash e poi come quarantaesimo video per potenziare di livello 2 il nostro super dato che lui mi dirai qualcosa dovrò fare prossimamente visto che ho cancellato dei vecchi giochi così e dunque ma questo non si tratterà si tratterà di sonic dash special 101 dal mansion al solito lo speciale dei 101 dal mata che si deve andare a londra però si deve arrivare al portale ed è il quarantasettesimo episodio e utilizziamo victor siete contenti buona visione raga e dunque eccoci qui raga grazie a tutti a 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 la 171 le abbiamo raddoppiato no 170 giusto più 101 ok va bene no che cosa ho fatto è stato un errore al commento raga dove è victor? eccolo qua ah me lo ricordo non avevamo utilizzato Metal Sonic raga facciamo qua questo video special 101 dimension facciamo correre Metal Sonic e victor va bene come titolo raga Metal Sonic dovete sapere che questo robot è stato costruito dal dottore Eggman un Sonic uguale però chiamato Metal Sonic un Sonic Metallico un Sonic Grazie a tutti 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 4.000 Perfetto E adesso Victor Evento E' un coccodrillo Wow è enorme Grazie a tutti Yeah Yeah Wow Wow Zona Yeah Sembra Yeah 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 Sembra Sembra anche arrabbiato 100 100 100 107 Yeah 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 Grazie a tutti Facciamolo continuare Mille siamo arrivati Questo coccodrillo Sei al massimo come Sonic Tenager Sai cosa succederebbe E' troppo grande 2000 siamo arrivati E niente Il video si è concluso 4.000 abbiamo recuperato 8.000 Perfetto Abbiamo fatto E siamo arrivati a 12.000 E 712 Bello vero con Victor E il video si è concluso qui Beh ragazzi Spero che questo video Di Sonic Dash Episodio 47 Ovviamente Special 101 Dalmation Utilizziamo Metal Sonic E Victor I personaggi Che non avevamo Utilizzato Vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Mi raccomando Mettete un bel like Seguite su Instagram Non dimenticate Cliccare qui Per iscrivervi al canale E qui Per non perdere Gli altri episodi Dedicati al vostro World Bnd3 Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti